Foucault fece scrivere fuori dal Pantheon di Parigi, dove lui fece questo famoso esperimento, vi invitiamo a venire a vedere la terra che gira, perché il pendolo tende a oscillare sempre sullo stesso piano e la terra che gli gira sotto ci fa sembrare ruotare il piano del pendolo. E qui vediamo proprio la dimostrazione pratica di come avviene questo fenomeno. Sì, perché non è tanto semplice capirlo. Allora noi abbiamo fatto questo modellino. Questo è un mappamondo, abbiamo messo il nostro pendolo al polo e la terra gira in questa direzione. Noi facciamo oscillare il nostro pendolo, tutta la struttura ruoterà con la terra, ma il pendolo tenderà invece a rimanere sempre sullo stesso piano. Ed ecco che cosa succede. Al passare delle ore il pendolo fa cadere i birilli. Ed è chiaro che al polo nord la terra fa un giro in 24 ore, in 24 ore cadrebbero tutti i birilli qui attorno. E invece all'equatore le cose stanno in modo diverso. Sono un po' diverse. Perché? Perché all'equatore la terra in realtà non gira in questo modo. Noi ruotiamo il nostro mappamondo, all'equatore la terra gira così, e un eventuale pendolo non troverebbe, come dire, la terra sotto di sé che si muove e quindi rimane sempre sullo stesso piano. Quindi un tempo infinito, diciamo. Diciamo che al polo il pendolo oscilla in 24 ore, all'equatore in tempo infinito, in tutte le altre latitudini in un tempo intermedio. Per esempio qui a Torino dovremmo aspettare 35 ore per avere il pendolo che torna a oscillare in questo modo. In questo modo si può misurare anche la latitudine del posto in cui ci si trova. Il tempo di rotazione del pendolo di Foucault ci dice la latitudine, ma nella sostanza ci dice soprattutto che la terra, noi non ce ne accorgiamo, ma sta ruotando. Quindi diciamo, finalmente siamo sicuri che la terra giri. Siamo sicuri. Grazie.